Apre al pubblico da venerdì 19 ottobre nella Cappella Palatina del Museo Civico di Castelnuovo al Maschio Angioino la mostra dedicata al futurismo anni 10 e anni 20, un'esposizione unica che vede insieme per la prima volta 64 capolavori che raccontano 20 anni della prima avanguardia italiana internazionale. Offriamo, come abbiamo fatto nel corso di questi anni, ai cittadini di Napoli un'altra bella e molto importante mostra una mostra su un periodo cruciale del Novecento e su un'avanguardia artistica che è sicuramente controversa, dibattuta ma che ha intuito che cambiava completamente il mondo, che la percezione del mondo fino allora rappresentato era completamente sconvolta dalle ritrompere della tecnica come fattore determinante e quindi, ripeto, tutta la percezione del mondo doveva cambiare, quindi anche la percezione artistica doveva assumere forme nuove. Napoli è stata da questo punto di vista certamente uno dei luoghi interessanti di questa ricerca come sempre accade incredibilmente nella storia di questa città, sempre capace di confrontarsi con le innovazioni dei linguaggi e quindi con questa mostra apriamo un ciclo di grandi mostre che io credo ancora una volta faranno dell'offerta culturale di Napoli anche per le prossime festività, sicuramente una delle più interessanti del paese. Promossa dal Comune con la direzione organizzativa di Alessandro Nicosia, la mostra è curata da Giancarlo Carpi e Francesca Villanti ed è ospita nella Cappella Trecentesca straordinarie opere di Boccioni, Balla, Carrà, Severini ammirate in alcune delle principali collettive storiche del movimento futurista. La mostra riporta il futurismo a Napoli dopo un pa' di anni, dagli anni 90, dove c'è stata una grande mostra sul futurismo e appunto il meridione. Si ferma agli anni 20, tutti gli anni 20 questa mostra, quindi facendo passo indietro rispetto alla cronologia totale del futurismo che finisce nel 44 con la morte di Marinetti, ripercorrendo e accentuando alcuni aspetti che sono quelli del rapporto tra l'uomo e la materia e l'uomo e la macchina in una chiave di ricerca, di superamento della condizione umana che è anche molto attuale. L'esposizione resterà allestita al Maschio Angioino fino al 17 febbraio con apertura dal lunedì al sabato dalle 10 alle 19 e la domenica fino alle 14. Un'altra mostra davvero bella in questo luogo che stiamo destinando stabilmente a mostre importanti questo è il futurismo dagli anni 10 agli anni 20 del 900 dove ancora una volta Napoli in prima linea con tanti artisti che guardava lontano ancora una volta puntiamo sulla cultura in questo castello che sempre di più stiamo riscoprendo, rivalutando e consegnandolo per intero alla città.